Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Prima di immergerci nella nostra notizia principale, vorrei ricordarvi di premere il tasto iscriviti e di lasciare un mi piace per supportare il nostro lavoro. Attivando le notifiche, resterete sempre aggiornati sulle ultime novità. Oggi ci troviamo di fronte a un momento particolarmente toccante nel mondo dello spettacolo. Parliamo di un volto che ha segnato un'epoca, un talento che ha attraversato diversi ambiti artistici con una maestria ineguagliabile. Nato a Floridia, in provincia di Siracusa, il 18 settembre del 1958, questo attore si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica, dando inizio a una carriera straordinaria. Ha collaborato con figure di spicco come Enrico Maria Salerno e Adriana Asti, dimostrando un talento versatile e profondo. Non solo il teatro, ma anche il cinema e la televisione hanno visto la sua presenza carismatica. Particolarmente noto per le sue interpretazioni in serie TV di grande successo, questo attore ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore del pubblico. La sua passione per il teatro lo ha portato a diventare direttore di prestigiosi teatri, come il Teatro Pirandello di Agrigento e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Uno dei più grandi conoscitori delle opere di Pirandello ha saputo interpretarle con una profondità unica, regalando al pubblico momenti di pura magia artistica. Tuttavia, oggi è con profondo dispiacere che dobbiamo condividere una notizia che ha sconvolto il mondo dell'arte e dello spettacolo. Il grande Sebastiano Lomonaco, all'età di 65 anni, ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Questo grandissimo attore, noto per la sua partecipazione all'onore e il rispetto parte seconda, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dell'arte. In questo momento di tristezza, vogliamo ricordarlo per il suo immenso talento e il suo contributo inestimabile alla cultura. E ora, vorrei sapere da voi, cosa ne pensate di questa tragica notizia? Qual è il ricordo più bello che avete di Sebastiano Lomonaco? Vi invitiamo a scrivere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Grazie per aver seguito questo video e per aver condiviso con noi questo momento di riflessione. A presto!